La pace dei santi sia con voi. Il 24 febbraio la Chiesa celebra la memoria della Beata Giuseppa Naval Gerbes Laica. Nasce l'11 dicembre 1820 in provincia di Valencia in Spagna, premogenita di sei figli. Frequenta la scuola di una vicina di casa dove, oltre che leggere e scrivere, impare lavori femminili, specie ricamo in seta ed oro. Nel 1833 muore la madre e Giuseppa deve lasciare la scuola e badare alla casa e ai fratelli. Ma la sua vita non è dedicata solo alla famiglia. Frequenta la parrocchia e si affida alla guida spirituale del parroco, Don Gaspare Silvestre. A 18 anni fa voto di verginità. A 30 anni, con la guida del parroco, comincia a radunare nella sua casa le amiche per riunioni di lettura e formazione spirituale. Poi trasforma la sua casa in un vero e proprio laboratorio, dove insegna gratuitamente il ricamo. Le interessa soprattutto la formazione morale e spirituale delle giovani, servendosi del laboratorio. La sua guida porta molte ragazze a scegliere la vita consacrata. Muore dopo una lunga malattia nel 1893. È beata dal 1988. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome della beata Giuseppa ed auguri a quanti il 24 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.